Start, two, one, boostly mission and liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Project Wunderwaff, un gioco in uscita il 10 di ottobre, non so ancora dirvi il prezzo, purtroppo il gioco è in italiano e mi ricorda, diciamo come tipo di gameplay, un Fallout Shelter. Ma, non fatevi ingannare, vi faccio una premessa, questo gameplay è forse il 10% di quello che può offrire il gioco, perché noi adesso vedremo la base, la costruzione della base, la ricerca, la costruzione dei vari edifici, ma il gioco non è tutto qui, perché potremo subire attacchi da parte del nemico, partirà una modalità strategica, potremo organizzare i rifornimenti, adesso poi vi spiego anche l'ambientazione, scopriremo le armi atomiche e lì aprirà altri menu di gioco che ora e soprattutto in questo gameplay non vedremo. Quindi vi dico, se vi interessa quanto state per vedere, quanto vedrete, guardate anche su Steam, perché il gioco è interessante. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale, siamo ipoteticamente, non lo citano, ma siamo la Germania, e dobbiamo costruire questa Wunderwaffe, cioè praticamente sarebbe letteralmente un'arma risolutiva per la guerra. Perché? Perché gli alleati avanzano, i sovietici pure, metto in pausa. Non è semplice, insomma, non siamo messi benissimo. Quindi, col tasto B, qua vedete che abbiamo l'ingresso del nostro, qua arriveranno i treni, infatti poi potremo andare a vedere anche i treni che arrivano, e potremo subire anche bombardamenti nemici. Qua abbiamo il nostro magazzino con all'interno tutto, qua abbiamo il tempo rimanente, non ho ancora capito cosa, se è la fine del gioco o meno, comunque abbiamo oro, tubi, bobine, cemento, altre cose. Possiamo andare a costruire col tasto B, vedete che andando su tutti, ci dice che possiamo costruire una galleria, un ascensore. Noi adesso cominciamo con una piccola galleria, questa viene costruita, penso che immediatamente, e il gioco ci dice di creare una... Allora, aspettate, faccio l'ascensore, vedete che iniziamo a piazzarla qua in alto, l'acqua. Inoltre che abbiamo costruito, vedete, iniziamo a produrre l'acqua. L'acqua e poi ovviamente l'energia elettrica. Energia elettrica che produciamo sempre costruendo un altro edificio, insomma, questo qui. Ora abbiamo l'alimentazione e qua andremo magari avanti a espandere questa produzione, anzi magari ne faccio subito due per non avere alcun tipo di problema, ma iniziamo magari a mettere una seconda d'acqua e una seconda di energia elettrica. Una volta che finisce di fare questo, possiamo piazzare la secondaria. Ok, a questo punto il gioco ci impone di costruire un centro di comando. Il centro di comando io lo costruirei qua sotto, vedete adesso piazzo un ascensore qui, e poi una volta costruito, piazziamo il centro di comando, che è il fulcro, diciamo, della gestione delle panoramiche, delle risorse e cose varie. Adesso aspettiamo che lo costruiscano e poi... Il gioco non è semplice, è perché mi sono incartato un pari di volte. Vedete che adesso abbiamo una produzione di energia abbastanza alta, con un massimale di mille. I generatori poi possono essere così come ogni edificio può essere acceso o spento. Vedete, noi siamo qua e gli alleati attaccano, i sovietici pure. Possiamo inviare al fronte poi delle cose. Perché? Perché adesso ci stiamo per arrivare, perché adesso quando vedrete il pannello della ricerca, che piazzerò magari qua sotto il magazzino, un difetto ci si muove con... Inclina, cioè muovendo il mouse ai bordi dello schermo, ma se noi piazziamo un punto e poi andiamo a muovere la mappa, ci deseleziona la costruzione. Questo è un po' un difettuccio. Comunque abbiamo piazzato, ed è in costruzione, il centro di ricerca, e questo pone le basi della nostra Wunderwaffe. Con la ricerca vi sarà tutto molto molto più chiaro. Ora, nel mentre costruisce, vi faccio vedere che qua sotto ci sono del ferro, c'è della pietra, c'è del minerale di rame, c'è in fondo in fondo, ci sono minerali aurei, ci sono... dovrebbe esserci anche il carbone. E quindi bisognerà scendere un po' per scavare tutto questo, che andrà ovviamente nelle nostre risorse, ma verrà soprattutto raffinato. Allora, adesso abbiamo fatto la ricerca. Vedete quanta roba c'è? Possiamo spendere per ognuno dei materiali. La ricerca è piuttosto veloce. Iniziamo il project Wunderwaffe, e spendendo 100 d'oro, l'oro è qua, qua abbiamo la ricerca, l'energia e l'acqua. Ogni tot, minuti, veniamo riforniti con un po' di materiali. Costruiamo minatori, minatori, sblocchiamo minatori, e sblocchiamo la miniera, che è molto importante, usando bobine e del ferro, dei tubi. È molto importante, anche... sono molto importanti anche gli alloggi, e le fabbriche. Infatti arriveremo qui con il gameplay. Iniziamo scavando la pietra, il ferro, che forse non possiamo raffinare, allora ci occupiamo di pietra. Quindi in questo caso andiamo a piazzare una serie di ascensori. Vedete che adesso io ho selezionato, ma mi sono mosso, quindi dovrei forse... neanche... Vabbè, abbassiamo così, tanto sicuramente qui dobbiamo farlo almeno fin qua. e ci viene segnata anche la quantità di pietra. Qua ce n'è un po' di più. Quindi noi costruiamo un tunnel, fino a qui, e poi facciamo una miniera. Magari la facciamo anche su più livelli, non lo so. Ferro, pietra, il rame. Il rame è molto importante, c'è anche del ferro qua, quindi possiamo migliorare questo. E del carbone. Quindi io inizio a mettere le fondamenta di quello che sarà la nostra costruzione. Ok. Sì, falla lì. Scendi, scendi, scendi. No, con l'ascensore, da qui. Qua abbiamo del carbone, quindi facciamo dei tunnel. In alto, sulla sinistra, vedete che ci sono anche i lavoratori, perché i lavoratori noi possiamo assegnarli alle varie miniere. La pompa dell'acqua funziona autonomamente, ma invece le, adesso vedete qua, io adesso faccio, perché l'ho ricercata, la miniera, e faccio la miniera di pietra. Una volta costruita, potrò assegnargli da uno a cinque lavoratori, o accenderele e spegnerele. Questo andrà ovviamente a consumare, e quindi intaccare le risorse che abbiamo di acqua e di energia. Qua abbiamo la pietra, qua abbiamo il ferro, e qua stiamo andando a scavare il carbone, quindi andiamo a piazzare subito un'altra, vedete che è piuttosto veloce, piazziamo alla miniera di carbone qui. Mi piacerebbe fare anche dell'oro, ma l'oro è parecchio in fondo, vabbè ma chi se ne frega lo facciamo, tanto dobbiamo solo vedere un attimino come funziona il gioco. Andiamo fin qua, e qua abbiamo parecchio minerale, livello 50 e 4, no, ci conviene farla qua la miniera, quindi la miniera, una volta che avrà completato questo tile di ascensore, la potremo costruire. Mi ricorda anche un pochino Mr. Prepper come gioco, vedete, ecco la miniera qua. Adesso abbiamo costruito la miniera di ferro, vedete che non è attiva, cioè è accesa, consuma, meno 20 litri, meno 20 kilowatt, possiamo aggiornarla, poi spendendo ovviamente delle risorse. In questo caso andiamo a piazzarli cinque lavoratori, vedete che adesso ne abbiamo solo 15. Ora iniziamo un po' l'ora della pietra. La pietra poi ci servirà, perché? Perché con il pannello di ricerca cliccando qua, vedete che qua c'è il progresso della ricerca, e cliccando qua invece esce la mappa dove possiamo andare a avere una panoramica o andare a mandare al fronte cose. Con la ricerca, vi faccio vedere, abbiamo questa, e voi direte, poca roba, poca roba no, perché andando avanti con le varie rami, si va fino alla fusione, aure alla fusione del rame, del ferro e cose varie, e poi si producono, vabbè, sia le automazioni di estrazione, sia l'ampliamento della logistica, lancia fiamme, lancia granate, lancia missili, insomma armi esplosive, la computerizzazione, l'aumento dell'efficienza delle pompe, la propaganda, il centro di addestramento, il controspionaggio, perché subiremo anche lo spionaggio dei nemici, la difesa antiaerea, fino all'energia nucleare, carri armati, mimetizzazione, programma missilistico, i silo missilistici, che andremo a costruire qua sotto, sotto terra, quindi tutta la produzione, di quelli che sono magari carri armati, addirittura c'è anche la bomba nucleare, carri armati, e altre armi, le dovremo mandare, poi al fronte, un tema abbastanza tarista, insomma, però è una simulazione per gli amanti del genere, allora adesso, noi stiamo producendo, vediamo se riusciamo a fare una ricerca, ma sono sempre abbastanza in difficoltà, il rame, vedete, dovremmo produrlo, io voglio prendere la produzione, e fare subito la produzione di cemento, adesso che ho dei, poi metto anche in produzione questo, e gli alloggi degli scienziati, magari il laboratorio, la mensa, insomma, così miglioriamo un po', non ho ancora capito in realtà, come fare a, aumentare il numero di lavoratori, comunque, la scienza mi serve 10 d'oro, che 10 d'oro non ho, io non so perché, sabotaggio in corso individuale, questo non mi è mai capitato, devo individuare un sabotaggio, eccolo qua, forse lui, dico la verità, questo non mi è mai capitato, quindi non saprei dove può essere, eccolo lì, no, mi hanno sabotato, e mi hanno distrutto, una centrale, una pompa d'acqua, fortuna che ne avevo fatte due, il problema, il problema è che non posso farlo, perché ho la, non ho abbastanza cemento, quindi vabbè, allora, facciamo la fabbrica del cemento, la piazziamo qua sotto, la produzione iniziale, l'ordinata è scelta, quindi programma attentamente, ok, la ricetta è realizzata, fino a quando non saranno esaurite le risorse, ok, ok, adesso costruiamo, mi hanno sabotato, non sono riuscito ad accorgermi, pensavo fosse questo mino qui, ma questo mino qui è sempre qui, a osservare l'arrivo del treno, con le risorse, che arriverà tra 38 secondi, adesso magari prendiamo a vedere, la miniera è giunta a livello 1, ok, infatti adesso io devo andare sotto, dove c'è la miniera d'oro, e assegnare 5 lavoratori, perché così produciamo quello che dobbiamo, anche qua vedete che non funziona, gli piazzo 5 lavoratori, e così produciamo, questo è già 5, ottimo, la produzione adesso qua, appena finisce, adesso voglio vedere se arriva effettivamente il treno, tra 5 secondi, sì, sta arrivando, vedete che è arrivato, e mi porta delle merci, infatti se fossi andato a vedere qui, mi aumentava il numero di, comunque, qua abbiamo fatto, possiamo mettere, scusate, ma ho sbagliato, qui, 4 lavoratori, e iniziamo a produrre, produciamo, mi produce dalla pietra, la pietra rotta, diciamo fantumata, e qua facciamo il, il cemento, col cemento, riusciamo a fare, intanto stiamo in perdita, come, centrale, ah mi ha distrutto, la centrale elettrica, vabbè, facciamo, e vabbè, diminuiamo le scorte, però producendo il cemento, dovremmo riuscire, a ricostruire, il, no, perché no, devo ancora capire bene, come funziona in realtà, possiamo, se siamo in perdita, di energia elettrica, possiamo spegnere qualcosa, temporaneamente, no, producetemi il cemento, grazie, ok, vedete che, andiamo a scegliere così, sì, meno 30 non è tantissimo, dobbiamo, continuare, vedete che qui poi, mi dà la pietra, le risorse disponibili, e stanno scavando, c'è un tempo, il tempo, praticamente il tempo residuo, di quella miniera, poi dovremmo fare altro, insomma, dovremmo trovare altre zone, da poter scavare la mappa, è decisamente grande, quindi potremmo, creare una, una super mega base, adesso, io sto aspettando, che arrivi sempre, sto cemento, zero, e non lo producono, perché non c'è la pietra, la pietra la dovremmo potenziare, la pietra è prodotta qui, tuttavia, potrei anche andare, a amplificare, la miniera, piazzando, un ascensore, qui, lo mettiamo, no, non facciamo un ascensore, ma, andiamo a scavare, un tunnel, qui, e una volta scavato il tunnel, facciamo una seconda miniera, non ho i lavoratori, effettivamente, per, lavorarla, ma li toglierò da qualcosina, che magari, al momento, mi serve meno, quindi, magari, facciamo questa, che mi toglie il carbone, ne tolgo, due, tre lavoratori, e li butto tutti qui, così, amplifichiamo, la produzione di pietra, il gioco può sembrare banale, adesso, ma, bisogna velocizzarsi, il più possibile, non fare errori, perché, bisogna produrre armi, il prima possibile, da mandare al fronte, e soprattutto, difendere noi stessi, adesso, la produzione, non avviene ancora, perché ne abbiamo, 17 su 20, richiesti, per fare pietra fantumata, che poi diventerà, a sua volta, cemento, anzi, in realtà, non mi stagna, anche diventando cemento, e non so il motivo, fabbrica del cemento, vabbè, andiamo avanti con la ricerca, vediamo se possiamo fare qualcosa, fabbrica del cemento, l'ho fatta, prefabbricazione, nuove ricette, mi chiede, 20 punti, la faccio? No, non posso, sì, ok, mi amplierà le ricerche, e poi faremo la linea di produzione, trasforma, cioè praticamente l'acciaieria, recupero delle risorse, 25%, insomma, tante cose da fare, il carbone a 18%, farò lo spazio di stoccaggio, una volta che avrò 20% di carbone, la miniera di carbone sta lavorando ancora, non ho, mannaggia ancora, sto cemento, vabbè, però intanto vediamo, vedete, qua in alto, tenete in alto a sinistra, tenete d'occhio il livello di ricerca, come sta progredendo la ricerca, sono sempre piuttosto veloci, ecco, l'abbiamo fatto, dovremmo avere ricette in più, infatti, ora possiamo fare prodotti cemento, qua è pietra frantumata, quindi produciamo cemento, elimino questo, e abbiamo pietra frantumata, quindi facciamo un po' di cemento, e qua si produce le pareti per fabbricate, ok, fantastico, ok, adesso, adesso si comincia a ragionare, perché abbiamo il cemento, quindi cemento, possiamo farci il, la centrale che ci manca, anche perché siamo in, a zero, quindi non siamo più in positivo, quindi dovremmo tornare in positivo a breve, purtroppo quel sabotaggio ci ha messo un pochino in difficoltà, ma non mi era mai successo nella partita precedente, quindi questo testimonia che comunque è carino come, casualità, insomma, come eventi, ora dovremmo tornare in positivo, infatti siamo più 50, andiamo bene, e mi manca del personale, forse in produzione, adesso, in scavo, cioè, allora, il carbone lo stiamo producendo, quindi, il carbone forse ne abbiamo sufficiente per fare lo stoccaggio, infatti abbiamo lo stoccaggio, e poi spenderemo 80 d'oro, 80 kg d'oro per il magazzino, e portiamo avanti anche questo, magazzino di stoccaggio, vediamo se è un luogo che possiamo costruire o meno, la traduzione, devo dire, è un po' così, nel senso che alcune cose, tipo trimestri, non si sa cosa sia, quindi vabbè, ehm, Bunderbaff, produzione, no, ok, adesso dovrebbero avere uno stoccaggio proprio le miniere, aggiorna, posso aggiornare con le pareti perfabbricate, cose che non ho, ma voglio provare subito a fare, per curiosità, questo secondo me, è un gioco, ehm, che vi farà un po' come Oxygen Node Included, vi farà sbagliare tanto, vi farà venire voglia di rifare, di nuovo, qua sopra ci possiamo piazzare un'altra produzione, allora, 61 d'acqua, elettricità elettrica, elettricità elettrica bellissimo, energia elettrica, magari il cemento ci manca qua, però adesso qua, produciamo ste pareti, e vediamo se con le pareti, riusciamo ad aggiornare una delle miniere qui, eh, vediamo, aggiorna, no, 5, ne fabbrico altre, vediamo se me le fa, spazio di stoccaggio armature, non me le fa, perché, perché non ho questo, quindi, se eliminassi questo me lo fa, vediamo poi se mi produce anche questo, si può velocizzare il tempo, ovviamente, vediamo se me lo fa, 10 kg, pannaggia, però dopo ancora, si, questo me lo fa, ma, vediamo un attimo, dal magazzino, se ho queste, i tubi, i tubi non li ho, potrebbe essere un problema, dovrei aspettare un minutino, a vedere se me ne consegnano ancora, non ho miniere di ferro, al momento, ho solo carbone, e oro, l'oro è al 5, 5 persone, dovrei fare miniere di ferro, la facciamo subito, perché, non è ottimizzatissima, però va bene, e, tolgo qualcuno all'oro, che al momento ci serve meno, e la piazziamo là, non so cosa sia questa cosa, mi aveva dato pareti armate, una roba del genere, ma va bene, allora, vediamo se me lo fa adesso, sì, teoria dovrebbe farmelo, ah no, mi serve il cemento, quindi devo produrre il cemento prima, produciamo il cemento, e poi facciamo queste pareti, così proviamo a, ampliare, ecco, intanto è arrivato il treno, lo vedo lì, vediamo se mi hanno portato, vediamo intanto se mi fa questo, sì, fantastico, vediamo se mi hanno portato, delle armature, non ho più i tubi, quelli di metallo, no, tubi 30, ok, ok, sempre quelli sono, vediamo adesso, produciamo questo, dovremmo avere abbastanza pareti, per fare l'espansione della miniera, vediamo come diventa, vediamo se abbiamo, sì, abbiamo l'espansione della miniera, quindi andiamo a vedere come è fatta, bellissima la visuale, aggiorna, vediamo, vediamo, vediamo dentro gente che lavora, accelero, così vediamo come cambia rispetto al miniera sotto, al miniera è di livello 2, consumerà sicuramente di più, credo, l'efficienza, ah, tiene 10 persone, quindi io posso togliere le persone da qua sotto, spegnerla, al momento, lo spegnerà sì, e mandarle tutte qui, ora, ora, dovrei ricercare, qua abbiamo messo la mappa di guerra, qua la ricerca, dovrei fare gli alloggi, però mi serve il rame, quindi il rame non lo abbiamo, ma non mi ricordo, adesso vedete, poi non avendo neanche dei grossi simboli sopra, questa è la miniera di ferro, questa è la miniera di carbone, non abbiamo questa miniera di oro, non abbiamo la miniera di rame, molto male, perché questo ci serve, potrebbe tagliare cinque le rame, eccola qui la miniera, meglio qua sopra, non è granché, ma va bene, facciamo un corridoio, fino qui, e poi magari anche qui ce n'è poco, 66, va bene dai, ci piazziamo la miniera, appena costruisce, e la mettiamo qua, ok, poi, non ho più persone disponibili, quindi devo togliere qualcuno, le toglierò dall'oro, spegnendo la miniera, e le butto tutte qua, ok, cinque persone che mi lavorano lì, qua non abbiamo pareti prefabbricate, ovviamente, e sarà importante automatizzare, poi andando avanti, quindi, intanto, l'energia si è messa bene, l'acqua un po' meno, ma l'acqua, ci manca il cemento, quindi, io metto in produzione un po' di cemento, che poi la pietra diventa pietra frantumata, la pietra frantumata diventa cemento, il cemento insieme ai tubi, questi qui, le armature, diventano pareti prefabbricate, ma le armature al momento non ho la possibilità di costruirle, dovrei fare un ampliamento ancora della, della ricerca, che sono, ah no, prefabbricazione, me la fa, linea di produzione, 120 euro, posso sbloccarlo? No, perché non posso farlo? Perché non ho 120 euro, credo, no, ce l'ho, ce l'avrei anche, ma devo probabilmente sbloccare qualcosa, metallurgia, è infatti, la metallurgia, me ne servono però 40 kg di ferro, che non ho, vabbè, intanto la miniera di rame produce, come se non ci fosse un domani, credo, perché, allora, alloggi, 10 kg, 8, dai, a breve, a breve ce l'avremo, vediamo, 9, 10, perfetto, ho accelerato, non si dovrebbe, ricerco gli alloggi, e gli alloggi li costruiamo qua sopra, magari, da questa parte, sotto, no, magari sotto questo, cioè, in teoria non dovrebbe, cambiare niente, però, faccio abitare i tizi sotto, no, a fianco qua, del coltreno che gli arriva direttamente sopra, fantastico, allora, costruiamo, alloggi, ah no, il magazzino, cavoli, un'altra cosa che dovrei costruire, infrastrutture, vediamo un po', no, ma non posso ancora costruirlo, mi sa, devo, devo prenderlo, alloggi dei lavoratori, 70 d'oro, ok, no, il magazzino, mi servono le pareti per fabbricate, e dovrei, molto importante, tenere sott'occhio la quantità di materiali, di armature ne abbiamo tante, di pietra fantumata non ne abbiamo tante, cioè di pietra sì, di pietra fantumata no, quindi, io adesso metto a lavorare, finché possono, tutto in pietra fantumata, all'infinito, finché, finché me lo fate, beh, alla fine fatemi anche questo, scusate, questo non me lo fanno all'infinito, ma me lo fanno finché possono, vabbè, quindi, va bene, li lavorano, ricercato, ricercato, abbiamo anche i letti adesso, che piazziamo qua, vediamo cosa mi chiede, sì, il legno non so come ottenerlo, quello in realtà, comunque, stanno costruendo adesso anche gli alloggi, acceleriamo il tempo, ho guadagnato 5 persone, arzioni alimentari, è che quello è un bel problema, comunque ho 5 persone in più, vediamo adesso cosa si può fare, abbiamo gli alloggi, abbiamo gli alloggi dei soldati, prendiamo anche quello, e poi sblocchiamo la linea di produzione di armi, anche la metallurgia è importante, il ferro però, lo rimettiamo in campo, accendendo la miniera che si riaccende in automatico, ottimo, però dovremo raffinarlo, quindi mi servirà per forza la metallurgia dopo, quindi qua abbiamo impiegato tutti, vediamo un attimo, per fare la metallurgia mi servono 40, di ferro, scusate, quindi lo produrremo a breve, mi piacerebbe fare uno d'acqua in più, per stare più tranquillo, iniziano ad essere tanti qua, alloggi dei soldati, le azioni alimentari, come vi ho detto, 100 kg non li abbiamo, non ho idea neanche di come farle, acqua, un pa dell'acqua, e la mettiamo lì, così almeno siamo tranquilli, siamo più 49, con la costruzione andiamo a 149, direi che siamo messi bene, mi manca più personale che altro, il problema è che non so a questo tempo rimanente cosa succede, perché il fronte nord-occidentale, sud-occidentale, fronte orientale, siamo praticamente circondati, la situazione diciamo di questo gioco, è nel periodo critico della guerra, in cui la guerra stava per finire, e noi dobbiamo provare a prolungarla, quindi difenderci da tutti i fronti, fronte qui dell'Inghilterra, della Spagna e della Russia, e possiamo mandare al fronte delle cose, però al momento non le possiamo ancora mandare, posso mandare del cemento al fronte, gli mando 15 kg al fronte, ma non saprei per cosa, però vabbè, mi piacerebbe mandargli delle armi, poi vediamo, pompa dell'acqua a livello 1, sì, non saprei come aumentarle, no, queste lo so come aumentarle, ma con la ricerca, qua continuiamo a produrre, vediamo di produrre anche del cemento, e anche delle pareti prefabbricate magari, così che, non me lo fa, vabbè, intanto sospendi questo, così iniziano a produrmi il resto, perché non è contemporanea, quindi devo, devo scegliere, se è in automatico questo, non mi produce quello, dovrei fare forse due fonderie, una che mi fa, non è automatizzata, ecco, quindi bisognerà, metallurgia 15 kg, no, ce ne vuole comunque un bel po', bel po', recupero delle risorse, con la demolizione recuperiamo il 25, linee di produzione, prendo questo, non posso, perché mi serve la metallurgia, mannaggia, alloggi degli scienziati, lo faccio, no, perché mi serve, che cosa mi serve, mannaggia l'oro ce l'ho, la scienza, giustamente, mi serve la scienza, e facciamo anche gli alloggi degli scienziati, e vediamo, e poi abbiamo un laboratorio, 20 di ferro, potenza, vediamo, vediamo il laboratorio come funziona, adesso io velocizzo, ricerchiamo anche il laboratorio, e poi lo costruiamo, e vediamo, perché il gioco è in continua espansione, sembra poi banale, visto tutto adesso, ma in realtà, non è così, allora, scusate, allora abbiamo, alloggi degli scienziati, azioni alimentari, il laboratorio, il laboratorio lo costruisco qui, tanto il terreno è arrivato, laboratorio, vediamo cosa succede con il laboratorio, non lo posso costruire, lo facciamo qua, però non abbiamo gli scienziati, quindi, finché non abbiamo l'alloggio degli scienziati, non possiamo fare nulla, azioni alimentari, continuiamo a non averne, questo è un altro magazzino, ma alla fine abbiamo già questo, magazzino principale, è il magazzino secondario, al momento non abbiamo così, non trabocchiamo di merci, comunque, finiamo qua, ok, abbiamo un laboratorio, laboratorio, ok, lavora per conto suo, non so cosa mi servirà, mi produrrà probabilmente, sì, mi produce questo, per la ricerca, che è molto comodo, la mensa, eccola la mensa, oh, forse ci siamo, la produzione di cibo avverrà con la mensa, immagino, ok, mensa ricercata, rallentiamo il tempo, e vediamo col tasto B, se possiamo mettere la mensa, è scomodo, questo menu, mensa, la mensa la mettiamo sotto al laboratorio, sei diventato indipendente dalle forniture esterne, perfetto, ci mettiamo subito a lavorare qualcuno però, perché se no, avremo l'alloggio dei soldati, avremo tutto, adesso abbiamo la produzione di tutto, adesso voglio vedere, ok, non ci lavora nessuno, cioè produciamo con oro le azioni alimentari, va bene, produci, no, magari non infinito, fai, fanne un po', ma non questo, ma perché, perché mi devi aprire questo, io voglio questo, non produrlo infinito, infatti, infatti, fanne un paio, tare magari, fai 30 razioni di cibo, accendi, lavoratori non ce ne sono, li tolgo da, da qualcosa, li tolgo dalla miniera di carbone, di ferro, scusate, e li tolgo dalla miniera, uno di carbone, ok, li metto tutti qua, quattro, tre, va bene, stiamo producendo cibo, come se non ci fossero domani, vediamo come va la produzione, vedete, uno, due, e tare, possiamo fare adesso, gli alloggi, del, stoppa un attimo, facciamo gli alloggi, gli alloggi dei licenziati, razioni alimentari 60 kg, no, continuate a produrne allora, uno, due, tre, perfetto, andiamo avanti, veloci, perché, voglio chiarirmi un dubbio, se, queste persone qui, sono effettivamente, solo lavoratori, o vengono compresi anche licenziati, io adesso faccio, con B, gli alloggi dei licenziati, che possiamo fare, e ho sbagliato, niente al tempo, gli alloggi dei licenziati, allora, il laboratorio è qui, facciamo, alloggi dei licenziati, qua a fianco, ok, vediamo subito, ci chiariamo subito il dubbio, ok, allora, fatemi pensare, ma, qua ci sono gli alloggi dei licenziati, consumano energia, ma vabbè, ma ci stiamo dentro lo stesso, no, non ci è aumentato la, però, tecnicamente, dovrebbe essere in sinergia, va bene, va bene, abbiamo, anche la produzione di cibo adesso, quindi dobbiamo ottimizzare, lo scavo d'oro, per la conversione in cibo, lo scavo della pietra, per la conversione in cemento, pietra franturata, e poi, pietra, diciamo, le pareti prefabbricate, il tutto, considerando il fatto, che la miniera, ha un limite, e durerà ancora, questi secondi, questi minuti, cioè, quindi, molto interessante, molto profondo, come gioco, non finisce qui, perché ovviamente, della ricerca, non abbiamo visto, praticamente, niente, guardate, vado avanti ancora tantissimo, non è sicuramente, un gioco per tutti, un gioco per gli amanti, degli strategici, dei base builder, e, dei giochi come, Fallout Shelter, Mr. Prepper, o cose del genere, o un XCOM, volendo, perché c'è anche una base, costruibile così, questo, era Project Wunderwaff, fatemi sapere, che cosa ne pensate, ovviamente, come sempre, qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo, in un prossimo video in play, alla prossima ragazzi, e ciao ciao! Grazie a tutti!